Non voglio neanche, e lo dico perché in questi giorni sui giornali è emersa questa domanda, sottrarmi alla considerazione, ma che differenza c'è tra il caso del Ministro Boschi e il mio caso, perché io mi sono dimesso e il Ministro Boschi non si è dimesso. Io credo che ci sia un dato comune tra i due casi. Non avevo fatto assolutamente nulla io, non ha fatto assolutamente nulla il Ministro Boschi. Per quanto riguarda il mio caso personale, l'ho detto nel discorso che ho fatto in marzo da questo Parlamento, chi vuole vada a rileggersi gli atti, è stata una considerazione assolutamente personale riguardo alla mia concezione di politica, alla mia concezione di responsabilità e al fatto che non si rinuncia, anche se si fa politica, ad essere persone. Per me la famiglia, i rapporti sono una cosa importante e questo è quello che io voglio ribadire sempre. Il resto è ovviamente legato alla legittima assunzione di responsabilità personale. Anche perché, lo dico per chi mi conosce, che se il Presidente del Consiglio avesse chiesto le mie divisioni di fronte a una cosa che non avevo assolutamente fatto, quello sarebbe stato un motivo per cui non mi sarei dimesso. Quindi, concludendo, e grazie Presidente che per me, perché mi ha richiamato.